è partito? è partito o non è partito? vedete la lucetta rossa che lampeggia l'ultima volta che lampeggiava è sparata su tutto qua no ma tu la batteria tu l'hai presa? la credenza da destra o da sinistra? da sinistra ma la sinistra mia o la sinistra da chi ci guarda? non mi ricordo signor non so perché te lo dico perché quello che facevi video prima di me è esplosito con tutta la credenza eh? questo non mi ricordo signor e c'eri sempre te dietro? c'eri sempre te lo signor sposta davanti vergogni? un pochino signor occidente mi sente? infadele? mi avete bene? allora questo non è un gioco questo non è un gioco che ciò è io non sono Claudio Cicchietto lui non è Max Pizzali e in compenso abbiamo un rapetto che si è convertito e si è fatto crescere la barba e non abbiamo paura di usarlo palmi rapetto basta rapetto si per dimostrare che siamo in diretta abbiamo anche il giornale di oggi dammi giornale è proprio il giornale di oggi guarda qua con l'infedele, con pertena con tutte le tette di fuori Tito e tu tiridinte le tette ma te tu non ti intende te tiridinte Tito oggi siamo qui per rivendicare un grande attentato l'ultimo cd di Gigi D'Alessio sapete perché si chiama ASIS? perchè è la predazione di Bisa me siente come suena il corazon Musica Bisa me siente come suena il corazon il corazon e il mio sorriso nelle labbra mi fermò non era un angelo ma forse un diavolo e quella notte nel fuoco il tuo cuore con lei si bruciò NOOOOOOO abbiamo presso il giornale di oggi dammi giornale questo è proprio il giornale dove cazzo sta oggi? dove cazzo sta il giornale? aspetta aspetta adesso mettiamo la via